Ciao a tutti, come scaricare l'amante e tornare dalla moglie? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Si sa, le amanti dopo un po' stufano perché iniziano ad avere delle pretese, iniziano ad avere la pretesa di voler assurgere, diciamo così, al ruolo di moglie. E allora, questo intanto lo dico a tutte le amanti, sappiate che i maschi italiani specialmente hanno identificato la moglie spesso con la mamma e quindi non hanno nessuna intenzione di mollare la moglie. Possono, diciamo, tradirla magari ma non lasciarla. E quindi quando l'amante, diciamo un po', dopo un po' è come il pesce, dopo tre giorni, tre giorni magari no, ma dopo tre mesi, sei mesi, tre anni qualche volta puzza e allora bisogna scaricarla per tornare dalla moglie. Ora, qua ci sono diverse situazioni che possono verificarsi. Quella più a rischio è che nello scaricare l'amante, nell'essere scaricata l'amante, voglia rivendicarsi e allora vada, diciamo, vada a interferire con la moglie e quindi magari andare a spiattellare tutto. Il fatto che praticamente molti amanti fanno questo. Quando si sentono scaricate, vanno dalla moglie e dicono, sai che io dall'anno X all'anno Y sono stata l'amante di tuo marito? Allora, anche questa è un'azione che all'amante non serve, perché comunque la moglie sa benissimo o immagina che il marito avrà avuto qualcosa, anche perché le donne hanno questa percezione. Però, di fatto, non sapendolo, diciamo, farà finta o comunque di non credere all'amante. Che può pure portargli le prove, però il fatto che gli porti le prove non significa assolutamente nulla. Se lei è convinta di non credere, non crederà. Sono come quelli che, per fare un esempio, non so, li puoi pure portare le prove, che la Bibbia, adesso mi viene in mente questo paragone qua, visto che, diciamo, ho fatto recentemente un'intervista a Mauro Biglino, li puoi pure portare le prove che la Bibbia non è un libro che parla di Dio, ma se questi sono convinti che parla di Dio, tu li puoi portare pure le prove, tanto non ci crederanno. Perché se è una sorta di ipnosi, se io sono ipnotizzato dall'idea che gli extraterrestri non esistono, possono pure atterrarmi, atterrare un'astronava in giardino, inventerò qualche scusa, dirò che non è vero, che erano i nani del circo travestiti da marziani, che mi hanno fatto uno scherzo, eccetera, eccetera. Se invece sono convinto che gli extraterrestri esistono, vedrò ogni luce nel cielo, sarà una prova, provata dell'esistenza degli extraterrestri. Quindi noi non è che crediamo quello che vediamo, noi vediamo quello che crediamo. Quindi, certo, questo genererà un po' di tensione, quindi è molto meglio evitare che la moglie venga a sapere questo. E allora, come fare a scaricare l'amante, diciamo così, senza colpo ferire, senza che questa faccia qualcosa? Beh, intanto o simuli tu un disinteressamento graduale, diciamo così, cioè la lasci, fai la tecnica della rana bollita, praticamente. Sapete che la rana, se voi prendete una rana, la buttate nell'acqua calda, questa schizza via. Se invece la mettete nell'acqua tiepida e poi fate gradualmente aumentare la temperatura, la rana non se ne accorge e bolle. E questa tecnica può essere usata anche per scaricare l'amante, cioè gradualmente. Ogni giorno un po' meno disponibile, poi dimostra un po' di impotenza, quando diciamo la vedi non sei più così pimpante. Una volta ti mettevi tutto profumato, tutto intero, adesso meno. Non dico che puzzi, però insomma quasi. Prestazioni proprio scadenti, se devi fare qualcosa. Insomma, la fai stufare fondamentalmente. La fai stufare in modo tale che arrivi lei in qualche modo a decoinvolgersi e arrivi lei in qualche modo a prendere le distanze. Magari non ti lascia, ma inizia ad allontanarsi. Ecco, questo è il metodo migliore, diciamo, perché è indolore. No, gradualmente le fai fare la fine della rana bollita. È evidente che questo richiede tempo. Devi prenderti almeno sei mesi. Talvolta un anno ci vuole per lasciare, per farsi lasciare in questo modo. Un altro modo è quello di creare delle forti litigate. Creare delle forti litigate per il motivo contrario. Ad esempio, per, diciamo, intanto bisogna vedere il tipo d'amante. Perché tieni presente questo, che se l'amante ha un marito è molto più facile sganciarla. Perché è ovvio che tu la puoi sganciare anche dall'oggi al domani, ma lei si guarderà bene da andare a parlare con tua moglie, perché è ovvio che tu potresti andare a parlare con suo marito, e quindi la cosa, o tua moglie potrebbe andare a parlare con suo marito. Quindi la cosa verrebbe fuori. Quindi, diciamo, magari evitando proprio lasciarla da un momento all'altro, perché è sempre poco carino, però per scaricarla, diciamo, devi, in questo caso è molto più semplice. Se invece è single, quello che puoi fare è creare delle litigate per colpa sua. La cosa migliore è farle una scenata di gelosia. Puoi anche combinare. Ci sono anche delle cose, queste cose qua sono carine. Leggevo che c'era anche un'agenzia che faceva queste cose, adesso non so dove, però mi sembra di aver visto qualcosa, che ti mandavano praticamente l'antagonista, o può essere magari un tuo amico, così va a sapere qualcuno che di bell'aspetto, magari lei è al supermercato, lui va lì e parla, lui va lì e parla, magari cerca di, insomma, di conoscerla un pochettino e fare tutto, tu sei d'accordo, ti presenti lì in quel posto lì casualmente, la vedi lei che parla con questo e fai subito, tu subito te ne vai e poi dopo le fai una sceneggiata di gelosia e dici, basta, non ne voglio più sapere di te, io non voglio avere a che fare con una donna che mi tratta in questo modo, insomma, le allontani dandole la colpa fondamentalmente. Poi le modalità sono diverse, comunque devi trovare un pretesto, devi coglierla in fallo, diciamo così. Quando fa qualcosa che non va, tu fai una litigata furiosa, fai vedere che sei la vittima e ti distacchi, in modo tale che lei, insomma, vive pure magari un po' di senso di colpa, il fatto che è stata lasciata. questo poi è il modo migliore, diciamo da un certo punto di vista, perché è più breve, se funziona, questo è il modo migliore perché è più breve. Poi è ovvio che c'è da sperare che lei nel frattempo si trovi qualcun altro, perché se no ti verrà a rompere i marroni di nuovo. Cioè, tieni presente che se non troverai altri, ti romperai i marroni a te. Per cui bisogna sperare che sia una persona che esca, che faccia qualcosa, insomma, se tutto va per il verso giusto, non dovrebbero esserci problemi. La cosa da evitare di fare è di lasciarla di brutto così, soprattutto se è single e soprattutto se è coinvolta, perché è sicuro che trasformerà questo coinvolgimento in rabbia e andrà a parlare con tua moglie. Una volta che l'hai scaricata, tu potrai, diciamo, riprendere tranquillamente il menage con tua moglie e poi magari dopo un po', se capita l'occasione, insomma, però intanto puoi rinsaldare il rapporto, rinsaldare il rapporto di coppia, insomma, ti sei, perché uno può anche capire dopo un certo periodo di aver sbagliato e quindi che sia giusto, è giusto, no? Andare a risaldare un rapporto di coppia, che magari non c'è più passionalità, non c'è più tanta passionalità, questo è evidente, perché le neuroscienze dicono che, insomma, la passione ha una sua durata ben delimitata, diciamo, non eccessiva. Però, comunque, sicuramente negli anni hai consolidato un rapporto anche di, diciamo, affettività, affettività, no? E poi, chi te lo fa fare? Insomma, come dice il proverbio, se lasci la strada vecchia per la nuova, com'è che dice il suo proverbio? Se chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. E quello che trovi potrebbe essere peggio di quello che lasci. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, di Città Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!